Il Centro Bresciano Down di Brescia ha inaugurato la nuova stanza multisensoriale per la stimolazione basale. L'obiettivo di questo operoccio terapeutico è quello di permettere ai ragazzi con disabilità di viversi e percepirsi come un essere attivo nell'ambiente e di avvicinarsi al mondo con minore paura e minore frustrazione. I sensi nella stanza di stimolazione basale vengono stimolati in maniera semplice in un ambiente armonioso. Un altro passo in avanti è per un centro d'eccellenza a livello nazionale come il Centro Bresciano Down che servirà sicuramente a migliorare la qualità della vita dei ragazzi e delle ragazze con sindrome di Down che frequentano il Cibi di Brescia. Questa stanza è una stanza che prende spunto da due approcci. Uno è quello della stimolazione basale e l'altro è invece l'approccio snozzelen. Sono due approcci abbastanza innovativi e sono due approcci che hanno entrambi la caratteristica di puntare sulla sensorialità. Quindi su una sensorialità molto positiva, molto accattivante, quindi proprio tatto per cui ci sono tanti strumenti proprio tattili che danno sensazioni piacevoli, ci sono sensazioni uditive, quindi c'è un letto ad acqua con un impianto stereo, un amplificatore che fa passare la musica attraverso l'acqua e quindi si sente vibrare in tutto il corpo. La musica è visiva attraverso luci molto molto accattivanti. C'è anche una parte di aromaterapia e attraverso tutti questi stimoli molto piacevoli e un ambiente molto rilassante si cerca di stabilire, prima di tutto, di portare i ragazzi che fanno più fatica ad ascoltarsi perché oltre alla sindrome di Down hanno magari tratti autistici o difficoltà proprio a entrare in relazione con l'altra persona. Si cerca innanzitutto di portarli a un ascolto di sé perché spesso il mondo esterno è per loro troppo confuso e anche spesso sgradevole, diciamo, quindi si cerca di portarli a un ascolto dei propri confini corporei, dei propri limiti e poi in un secondo momento, cosa fondamentale, a portarli in relazione con l'altro quindi a uscire un po' dal loro mondo interiore in cui spesso si rifugiano e le stereotipie o comunque i dondolamenti, diciamo, sono un po' un segnale che loro ci stanno dando che vorrebbero comunicare con noi ma non sono in grado di comunicare attraverso il verbale o attraverso una comunicazione più standard e quindi... La Presidente dell'Associazione, inoltre, racconta quelli che sono alcuni servizi il Centro Bresciano Down mette a disposizione dei propri ragazzi e come fare per contattarli? Dal 200 famiglie abbiamo associate, dal 92 che ci siamo e stiamo facendo tanti progetti nuovi l'anno scorso abbiamo fatto noi siamo al viaggio e quest'anno invece è un altro progetto innovativo per i bambini proprio con più difficoltà degli altri a relazionarsi a... Sopra abbiamo quattro appartamenti dove una trentina di ragazzi a turni fanno il fine settimana e dopo abbiamo un appartamento a Monpiano dove due gruppi di ragazzi fanno due settimane al mese dal lunedì al sabato in autonomia, seguiti dagli educatori però in autonomia sul sito c'è sicuramente il numero di telefono Centro Bresciano Down 030 37 31416 ci trova sempre il orario segreteria dal lunedì al venerdì dalle 8 e mezza alle mezzogiorno e dalle 2 alle 6 grazie grazie